Desideri un'alternativa al tuo lavoro attuale per avere maggiore libertà e vivere una vita differente. Cercando online hai trovato le piattaforme per freelance e in particolare hai scoperto Fiverr, ma non sai assolutamente come muoverti per iniziare. Alla fine di questo video ti spiegherò esattamente come iniziare a guadagnare online con Fiverr. Ti do il benvenuto, io sono Monica Pirozzi, copywriting expert e fondatrice di CopyGateway, la community italiana per lanciare e far crescere il tuo business con la scrittura online. Se non vuoi perderti strategie e tips per costruire il tuo lavoro senza vincoli grazie al copywriting, lasciami un pollice in su a questo video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Ma adesso partiamo subito. Ognuno ha una differente opinione online su Fiverr, puoi cercare video, puoi guardare video, per cui non sono qui a mostrarti quella che è la mia opinione personale che di persone né negativa né positiva. Non saprei che dirti. Il tutto dipende da tre fattori principali, come al solito la mia opinione è assolutamente obiettiva. Il tutto dipende dalle tue competenze attuali, quindi quali sono le competenze rispetto all'ambito del servizio che vuoi offrire su Fiverr. Nel mio caso parleremo di copywriting e scrittura online perché ovviamente mi occupo di questo, ma ci sono anche servizi di web design, programmazione, grafica. Trovi davvero tantissime traduzioni, eccetera, eccetera. Secondo, le tue aspettative di guadagno attuali, quindi quanto vuoi guadagnare rispetto ovviamente alle competenze che hai, all'esperienza che hai già maturato, a quello che è il tuo obiettivo lavorativo in questo momento della tua vita. E infine, terzo, le tue abilità nello sfruttare qualsiasi mezzo andando al di là della punta dell'iceberg, andando al di là di quello che si vede, quindi scavando più profondo per trasformare qualsiasi piccola collaborazione che hai e che riesci ad ottenere in un'opportunità più grande. Dunque, Fiverr di per sé non è né una piattaforma per cui ti direi no assolutamente non approcciarla, non è nemmeno una piattaforma per cui ti posso dire ok, usala per tutta la vita. Può essere utilizzata in maniera ovviamente performante in base a quelle che sono le tre condizioni di partenza che ti ho spiegato prima. Ora, se non lo sapessi, Fiverr è una piattaforma internazionale per freelancing in cui i liberi professionisti possono pubblicare un proprio annuncio ed essere contattati da potenziali clienti che ovviamente sono interessati a quella determinata tipologia di servizio che stanno offrendo. Quindi devi partire offrendo un tuo servizio. Sei tu che dici qual è il servizio che stai offrendo all'interno della piattaforma e creerai il tuo annuncio. Dunque, sebbene possa sembrare davvero molto semplice, sebbene è tutto gratis per iniziare, ci sono comunque dei presupposti di partenza. Il primo presupposto è la conoscenza a quantomeno base della lingua inglese, perché la piattaforma è tutta in inglese e il tuo annuncio verrà scritto in inglese, anche se puoi lavorare con clienti italiani, che è quello che fanno tutti gli studenti all'interno di Copy Gateway Mastermind. Secondo, capacità di scrivere un annuncio. Il testo del tuo annuncio è una parte estremamente strategica e tutti gli effetti un copy, ossia un testo per la vendita in cui devi vendere le tue abilità e il tuo servizio e quindi deve essere scritto con una struttura che sia efficace e non il racconto del tuo curriculum o del servizio che stai offrendo. E terzo, abilità di negoziazione e di comunicazione col cliente, perché è molto molto raro, soprattutto ai inizi che i clienti clicchino e acquistino direttamente da te, ma ci sarà sempre uno scambio di messaggi in cui dovrai effettivamente andare a vendere il tuo servizio, negoziare, comunicare. E anche ovviamente in fase di consegna del lavoro o nel caso in cui il cliente ti contatti per lavori successivi è molto importante saper comunicare con lui. Quindi massima attenzione a questi tre presupposti per lavorare sulla piattaforma. Che puoi partire anche da zero, non significa che ovviamente non devi conoscere nulla e anche se sai zero avrai successo. Non è assolutamente così. Fa avere un mezzo molto interessante se vuoi inviare una nuova professione e vuoi iniziare a lanciarti da subito all'interno del mercato per trovare opportunità o per testare anche le tue competenze o addirittura per sviluppare delle skill ma partire completamente da zero senza sapere nulla, senza saper fare nulla e senza volersi impegnare. Ovviamente questo non è possibile perché comunque la competizione c'è, soprattutto all'estero in Italia un po' meno, però la competizione è tanta e basta davvero un pizzichino, un pochino, per far decidere al cliente di contattare un altro piuttosto che in piattaforma. Questa è una logica molto molto semplice di mercato che puoi testare tu stesso a non cercare ovviamente dei servizi su Fiverr. Fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di Fiverr, se hai delle domande specifiche perché posso fare dei video a parte su questa piattaforma che ovviamente ho utilizzato per tantissimo tempo e su cui sono andata, sono arrivata a guadagnare cifre molto molto importanti. Nella seconda parte di questo video ti voglio spiegare invece nella pratica al 100% come veramente puoi iniziare a prendere i primi clienti su Fiverr già dalle prossime settimane perché ho preparato un processo in quattro step che puoi iniziare ad eseguire anche da adesso, da quando chiuderai questo video. Il primissimo step è sonda le categorie. Se entri su Fiverr come utente, come cliente, non come una persona che vuole creare il proprio annuncio, ti renderà conto che puoi cercare servizi differenti andandoli a filtrare per categorie. Lo vedrai nella barra in alto a destra. Cosa sono le categorie? Sono tutti differenti servizi che sono disponibili in piattaforma, ad esempio web design, copywriting, web development o qualsiasi altra roba, traduzioni, insomma tutte le categorie ora in questo momento tu non sai effettivamente quali sono tutte le categorie di servizi che sono presenti su Fiverr e quale può essere un'alternativa buona per te. Se andare alle categorie ti aiuterà proprio a capire questo, quali sono i diversi servizi che ci sono in piattaforma e che quindi i clienti dall'altra parte stanno cercando e quali posso offrire in base alle mie competenze, in base a quello che io voglio imparare e in base a cui io voglio lanciarmi come professionista, come persona, come freelance. Una volta che hai scelto la tua categoria o le tue categorie perché puoi iniziare a fare dei test su più categorie, il secondo step è fare una ricerca di mercato nella tua specializzazione. Che cosa significa? Adesso hai scelto una categoria, devi capire come si comportano gli altri annunci, gli altri freelance per questa determinata categoria, che cosa offrono, che cosa stanno cercando i clienti all'altra parte e questo lo fai ovviamente andando ad analizzare step by step gli annunci che trovi online, quindi inizi a fare delle ricerche, entri in una categoria e inizi a vedere quali sono gli annunci che ti compaiono, ci sono solo inglesi, prova a spulciare anche tra chi offre servizi simili in italiano, che oggi è localizzato in Italia, in modo che puoi capire a 360 gradi che cosa c'è all'interno del mercato. Mi raccomando, la comprensione del mercato è il primo passo per creare un servizio e un'offerta che sia veramente efficace, perché ti stai sempre confrontando con qualcun altro ed è importante che tu sappia che cosa stanno facendo i tuoi player, ma anche per schiarirti dei dubbi. Capisco che in questo momento tu non sappia che cosa scrivere nell'annuncio, come strutturare la tua offerta eccetera. Inutile guardare in aria, vai sulla piattaforma, vai su Fiverr, studia attentamente per ore al giorno tutte le persone che ci sono e ti assicuro che troverai delle idee molto molto efficaci e adatte al tuo caso specifico. Terzo step per iniziare su Fiverr a questo punto è scegliere la tua parola chiave. La parola chiave è quel termine che definisce il tuo annuncio, la parola cardina attorno a cui ruota tutto il tuo annuncio. Mettiamo che io voglio offrire un servizio di copywriting per landing page, la mia parola chiave sarà copywriting per landing page e quella parola che sei inserita nella barra di ricerca di Fiverr ti permette di essere trovato dai clienti. Senza questa parola chiave praticamente qualsiasi annuncio è inutile perché anche se scritto alla perfezione e tutto è infiocchettato nessuno riuscirà effettivamente a trovarti nelle ricerche, quindi sarai praticamente inesistente. Trovare la parola chiave lo fai attraverso la ricerca di mercato, cioè spulci sulla piattaforma e inizi a capire quali sono le parole chiave che stanno utilizzando gli altri tuoi competitor e lo puoi vedere benissimo dal titolo. Il titolo di solito è una combinazione di parole chiave perché ovviamente punti ad essere trovato all'interno delle ricerche. Quarto step a questo punto siamo arrivati alla creazione del tuo annuncio. Ora se hai fatto bene tutti gli altri step a questo punto avrai una quantità di dati incredibile che ti permetterà di avere tutta la situazione chiara su come strutturare il tuo annuncio, quali sono i tuoi punti di unicità e che cosa offrire. A questo punto devi iniziare a creare il tuo annuncio, strutturarlo con una copy, quindi con una scrittura per il web estremamente efficace che convinca le persone dall'altra parte che tu sei la soluzione perfetta per loro rispetto a tutti gli altri. Mi raccomando punta su quelli che sono gli elementi di unicità, quello che hai trovato essere differenziante nel mercato per cui tu puoi distinguerti. Adesso ti faccio un breve recap su come iniziare su Fiverr, iniziare a trovare i tuoi primi clienti anche dalle prossime settimane e ti assicuro che è assolutamente possibile di quello che ho testato con gli studenti di Copy Gateway Mastermind. Primo step sono le categorie, secondo ricerca di mercato, terzo scegli le parole chiave e quarto crea il tuo annuncio. Se vuoi avviare il tuo business con la scrittura online ma non sai da dove partire iscriviti alla prossima masterclass gratuita qui sotto in descrizione. Se questo video ti è piaciuto lasciami un pollice in su, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Qui al lato troverai un altro contenuto con cui puoi proseguire. Noi ci vediamo nel prossimo video. Hasta luego!